Noi abbiamo di fronte due sfide che cambiano, stanno cambiando tutto. Una appunto è la sfida ambientale, perché vuol dire ripensare tutti i prodotti, vuol dire ripensare i sistemi produttivi, vuol dire ripensare anche gli stili di vita, i comportamenti delle persone e dall'altro siamo nel pieno di una trasformazione digitale e tecnologica che cambia il lavoro, che cambia i contenuti e che quindi mette al centro il problema della formazione e della conoscenza delle persone. Io penso da questo punto di vista che non bisogna avere paura, il problema è come la si fa e in questo senso rilanciare un'idea di investimenti e di ruolo pubblico, perché il problema delle tecnologie è chi le controlla, chi le gestisce, non semplicemente se sono belle o brutte le tecnologie. Le tecnologie non sono neutre, dipende chi le usa e dipende da quel punto di vista lì se al centro c'è il lavoro, c'è la giustizia sociale o se invece al centro c'è semplicemente il profitto, il mercato senza regole come è avvenuto in questi anni. Da questo punto di vista io penso che c'è bisogno di piani di investimento a dimensione europea almeno e c'è un problema che riguarda la manutenzione del territorio, che riguarda il cambiamento anche dei prodotti, pensiamo a tutto il settore della mobilità se ne ragioniamo. Questo da un certo punto di vista vuol dire cambiare anche il ruolo delle città, vuol dire cambiare anche il modo con cui gestisci le città, con cui fai vivere sostanzialmente le città. La convince l'idea di scorporare dal deficit gli investimenti verdi? Sì, è una delle rivendicazioni che noi stiamo facendo da tempo, non solo gli investimenti verdi, noi stiamo chiedendo che ci sia uno scorporo di tutti quelli che sono gli investimenti pubblici che vanno nella direzione di rilanciare il lavoro e di rilanciare l'economia, quindi dal nostro punto di vista scorporare gli investimenti dal deficit buc è una richiesta che facciamo da tempo a livello italiano e sarebbe necessario che in Europa questa discussione venisse affrontata e credo che in Europa dovrebbero a diversità di quello che sta succedendo fino adesso cogliere un altro tema, oggi la competizione nel mondo è tra capitalismi di Stato, guardiamo quello che sta succedendo tra la Cina e l'India, tra la Cina e gli Stati Uniti e quindi da un certo punto di vista oggi in realtà continuare a pensare che ogni singolo paese d'Europa in realtà da solo risolve i suoi problemi, secondo me vanno tutti a sbattere, quindi da un certo punto di vista credo che questo sia un elemento di novità, costruire l'Europa vuol dire questo, vuol dire costruire un'Europa dei diritti come abbiamo detto prima, dei contratti, dei salari, del lavoro, basta precarietà, basta appalti, ma vuol dire anche avere una dimensione di costruire un'Europa sociale e a quel punto avere un'Europa che è in grado anche di dire la propria in senso generale e in questo dopo vent'anni di ubriacatura di mercato credo che sia importante riaprire una discussione sul ruolo pubblico e sugli investimenti pubblici, anche perché processi di trasformazione così grandi, lasciarli fare al mercato è un disastro e senza un intervento anche pubblico le cose non vanno da nessuna parte.